Grazie a tutti. Siamo a Pomposa, nel comune di Codigoro, ha inaugurato una nuova unità produttiva e quindi praticamente nuovo lavoro per l'area. Purtroppo c'è un lutto da registrare a Voghiera, è morto il neo-vicesindaco Paolo Pini, quindi lo ricorderemo nel corso del TV Giornale. E parleremo anche di altre imprese, ancora industria, con Federuna Coma, la meccanica agricola tra nuove sinergie e Piano Mattei. Ci occuperemo dell'apertura di una storica pizzeria napoletana che è inaugurata proprio in queste ultime ore nel centro di Ferrara. Poi andremo alla scoperta dell'apicoltura e anche qui con un servizio particolare che vi mostreremo in coda al nostro TV Giornale. Ma apriamo subito dunque parlando di Guardia di Finanza perché all'interno della caserma finanziere Bruno Bolognesi di Via Palestro, alla presenza delle massime autorità provinciali ed una rappresentanza del personale in servizio e della locale sezione dell'Associazione Nazionale Finanziere d'Italia, si è tenuta una breve cerimonia in occasione del 250esimo anniversario di fondazione della Guardia di Finanza. Nell'occasione il comandante provinciale, colonnello Gabriele Sebaste, dopo il saluto alle autorità presenti e i ringraziamenti rivolti ai finanzieri ferraresi per l'impegno e la professionalità profusi nel contrasto agli illeciti di natura economico-finanziaria, ha effettuato un bilancio delle attività concluse nell'anno 2023 e nei primi 5 mesi del 2024 delle fiamme gialle estensi nei vari comparti operativi. Le fiamme gialle ferraresi hanno eseguito 302 interventi ispettivi e condotto 133 indagini di polizia giudiziaria finalizzate a contrastare gli illeciti economici-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell'economia locale. Le attività si sono concluse con la segnalazione all'autorità giudiziaria di 114 soggetti, di cui 82 per fraude fiscale, ed hanno portato al sequestro di beni e disponibilità finanziarie di importo pari a oltre 11 milioni di euro, quale profitto dei reati di evasione fiscale. Adesso dunque andiamo nel comune di Codigoro perché si è inaugurata una nuova unità operativa nello stabilimento di Castamonu a Pomposa. Il valore del nuovo investimento è pari a 30 milioni di euro e in futuro consentirà alla multinazionale turca di assumere nuovi lavoratori pari circa a una trentina. Presenti tra gli altri, insieme al direttore generale dell'azienda, le sindache del territorio e il presidente uscente della regione, neo-eurodeputato Stefano Bonaccini. Lo sentiamo. Molto importante essere qui a Codigoro, ero già venuto alcuni mesi fa per questo grande investimento investimento di questa azienda turca Castamonu che lavora nel campo dei pannelli di legno del trucciolato perché un ulteriore stabilimento, altre decine di posti di lavoro che si aggiungono a quelli che già ci sono, per gran parte sono lavoratrici e lavoratori che vivono in questo territorio ed è un fatto come la sindaca Alicia Zanardi sottolineava molto bene, un fatto importantissimo per l'indotto, per l'economia, per l'occupazione e quindi per me era doveroso essere qui, l'avevo promesso e ho dato la disponibilità dal ruolo che avrò al Parlamento europeo per discutere e lavorare sempre per investimenti che portino soprattutto buona occupazione nella nostra regione. Oggi qua a Codigoro, grazie a Castamonu, abbiamo inaugurato un investimento di oltre 30 milioni di euro dentro un piano più complessivo di 180 milioni di euro per creare nuova occupazione in un territorio che ne ha un grande bisogno e che ha grandi potenzialità per attrarre questi investimenti. Per questo stiamo mettendo in campo come regione politiche per fare in modo che anche nei territori non centrali, non strettamente cittadini, si possano creare le condizioni perché la popolazione, le persone, i ragazzi, le ragazze possano rimanere, abbiano il diritto di poter investire e di trovare nuove occasioni di lavoro. Adesso una triste notizia e lutto a Voghiera per la scomparsa del vice sindaco Paolo Pini, aveva 57 anni ed era affetto da un male incurabile. La sua nomina era venuta soltanto pochi giorni fa, dopo le amministrative dell'8 e del 9 giugno che hanno confermato Paolo Lupini come primo cittadino del paese. Paolo Pini era un carabiniere e viveva a Montessanto insieme alla famiglia. Le imprese ferraresi e ravennate necessitano di personale qualificato e più laureati. Il dato emerge da un'indagine di Union Camera e resa nota dalla Camera di Commercio di Ferrara Ravenna. Vediamo. Le imprese al giorno d'oggi hanno difficoltà a trovare quasi un laureato su due. Queste alcune delle indicazioni provenienti dal sistema informativo Excelsior che Union Camera realizza in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relative alle opportunità di lavoro per i laureati e analizzati insieme ad Alma Laurea nella volume Laureati e Lavoro, dove ne è noto la Camera di Commercio di Ferrara Ravenna. L'indirizzo economico è il corso dei laurea più richiesto dalle imprese, seguito dall'insieme degli indirizzi di ingegneria suddivisi in ingegneria industriale, ingegneria civile, architettura e ingegneria elettronica e dell'informazione e 15.000 in altri indirizzi di ingegneria. Tra gli altri indirizzi più richiesti figurano anche quello di insegnamento e formazione, quello sanitario e paramedico e quello scientifico, matematico, fisico e informatico. Le imprese ferraresi e ravennate riscontrano difficoltà nella ricerca di un laureato su due pari al 49% delle entrate di laureati, accentuando una situazione già complessa e che nel 2019 riguardava un laureato su tre. Le professioni che le imprese fanno più fatica a reperire per i laureati interessano in particolare l'ambito ingegneristico, medico e paramedico e scientifico. Più nel dettaglio, tra le professioni introvabili, si evidenzano gli ingegneri elettronici, con il 91%, gli ingegneri dell'informazione, poco più dell'80%, le professioni sanitarie, infermeristiche ed ostetriche, pari al 79%, e a seguire i tecnici gestori di reti e sistemi telematici, i farmacisti, gli specialisti in terapie mediche, i medici generici e i progettisti e amministratori di sistemi. E torniamo adesso sulla cronaca, perché nella serata di giovedì il personale della squadra mobile della Questura di Ferrara ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio e contrasto alle attività di spaccio di sostanze stupefacenti in zona GAD e nell'area di Via Valuardi del centro cittadino. Sono state impegnate cinque unità della squadra mobile, quattro pattuglie del reparto Prevenzione e Crimine di Bologna, una pattuglia della divisione amministrativa, una dell'ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e un operatore della Polizia Scientifica, nonché uno dell'ufficio Immigrazione. Nel corso del servizio sono state identificate 140 persone, di cui 45 con precedenti di polizia, sono stati controllati anche 14 veicoli e 7 esercizi commerciali, di cui 4 bar, 2 sale slot e un centro massaggi. E torniamo a parlare anche dell'Assemblea annuale di Federuna Coma, che si svolta martedì pomeriggio a Palazzo Albergatti a Zola Predosa, in provincia di Bologna, e che ha registrato una folta partecipazione di aziende associate, presenti sia nella parte privata dell'Assemblea, sia nel convegno pubblico. A concludere l'assise è stato l'intervento del Ministro dell'Agricoltura. L'Olo Brigida, collegato in streaming, ha annunciato il G7 Agricoltura, che si terrà a settembre in Sicilia, come momento di promozione del Made in Italy agricolo e agromeccanico. Ma sentiamo la Presidente di Federuna Coma, Maria Teresa Maschio, sul tema appunto dell'innovazione. La rivoluzione, terza rivoluzione, come lei ha sottolineato, significa però comunicarla alle imprese, magari non sempre sono in condizione di poter cogliere o anche formate. Come intervenire? Qual è l'appello che si può fare, insomma, a un governo centrale? È toccato un tema giustissimo, perché parliamo di terza rivoluzione nel campo agricolo, che sarà poi quella che riguarderà la robotica e la licenza ufficiale, ma se non potrà andare a compimento, se non verrà supportata da una grossa formazione. La nostra associazione ha creato anche un'accademia di formazione, appunto per affrontare anche questi temi, non solo questi temi, ma a tutti i livelli comunque dobbiamo spingere per fare sempre di più formazione. Sappiamo comunque che in parte questo ci viene anche, veniamo anche avvantaggiati da quella che sarà poi una seconda generazione o terza generazione nel settore della macchina dell'agricoltura, per cui i giovani sicuramente in questo saranno determinanti. Faccio anche una domanda sul piano Mattei, perché è stato sottolineato quanto l'Africa sia un'opportunità e quanto, insomma, su questo anche la Federuna Come stia puntando. Sì, noi crediamo che il governo Meloni abbia sostanzialmente ha avuto una visione in questo. Il piano Mattei che in ogni caso in questo momento è ancora agli albori, in quanto hanno solo fatto una cabina di regia nella quale ci sono i principali stakeholders, i principali attori del nostro sistema economico, però ha sicuramente una sua visione, cioè pensare, sappiamo che l'Africa, le terre coltivate in Africa sono solo il 12% di quelle coltivabili, quindi c'è un potenziale enorme. Io credo che il nostro settore abbia una grande chance, è sicuramente un treno sul quale dobbiamo salire, non è semplice, l'Africa io ci sono stata parecchie volte e qualcuno mi ha detto che in Africa ci vuole tanta pazienza. Però io credo che se siamo costanti, se riusciamo a fare sistema paese, forse per questa volta arriveremo per primi, prima dei tedeschi, prima dei francesi. Quindi sarebbe un grande orgoglio, una grande soddisfazione. Ripeto, ci vuole grande pazienza, grande determinazione, però in questo momento sentiamo che il governo in questo ci sta aiutando. Adesso facciamo un viaggio virtuale da Napoli a Ferrara perché è stata inaugurata giovedì sera in corso Martiri della Libertà la pizzeria da Michele che attualmente con la nostra città conta 55 sedi nel mondo e porta ovviamente nuove attrattive dal punto di vista lavorativo appunto nella nostra città. Vediamo allora il taglio del nastro e le interviste ad Alessandro Condurro, amministratore delegato dell'antica pizzeria da Michele in the World e ad Alessandro Martone, amministratore delegato dell'antica pizzeria da Michele di Ferrara. Siamo all'inaugurazione di questo nuovo punto importante per la città di Ferrara, la pizza napoletana nel cuore della città davanti al Castello Estense. Ecco intanto, perché questa scelta e qual è il vostro obiettivo? Innanzitutto è veramente per noi non essere qui a Ferrara a portare la nostra pizza praticamente la nostra pizza tradizionale napoletana all'interno di una città così bella, così importante come Ferrara. Progetto nato voglio dire a Forcella nel 1870 a Napoli che oggi ci conta, oggi è la 55esima sede che apriamo praticamente nel mondo presente in tutto il mondo, da Los Angeles a Tokyo passando per tanti paesi dell'Unione Europea, Penisola Araba, tantissime città in Italia quindi perché no Ferrara? Ferrara è una città ricca di storia una città ricca di cultura, dove si vive benissimo, ci piace e perché non sposare praticamente questo progetto? Abbiamo fortunatamente trovato un partner che credeva nel progetto di un'apertura di un'antica pizzeria Michele a Ferrara ed eccoci qui a raccontare la nostra storia. In cosa vi distinguete rispetto a quello che può essere una tradizionale pizzeria napoletana? Perché appunto scegliere il vostro punto vendita? Ma in effetti ciò che ci differenzia rispetto a tutte le altre pizzerie è la storia, lo storytelling spesso e volentieri nel mondo del food, della pizza in particolare ci sono storytelling inventati. Noi lo storytelling ce l'abbiamo perché effettivamente è vero siamo nati a Napoli nel 1870, è una tradizione di famiglia siamo alla quinta generazione della famiglia Condurro che porta avanti il brand antica pizzeria Michele quindi effettivamente questo, la pizza è la stessa assolutamente siamo stati capaci di replicare la stessa pizza così come la si mangia tra i tavoli di forcella in tavoli di tutto il mondo e quindi anche a Ferrara, anzi avrete l'occasione tra poco di assaggiarla e quindi direte anche voi il parere vostro se effettivamente è uguale a quella lì di Napoli gli ingredienti sono gli stessi che partono tutti dalla Campania quindi più che altro praticamente cosa ci differenzia? Ci differenzia il fatto che siamo una garanzia in tutto il mondo dove si vede il logo antica pizzeria Michele quindi anche a Ferrara si sa che si mangia quella pizza lì fatta secondo le ricette tradizionali e quindi assolutamente garanzia di qualità Sono molto 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 contento di essere qui in una città ricca di storia è una città ad altezza Duomo che riesce a soddisfare una fascia d'età come l'antica pizzeria da Michele nel senso che la pizza raccoglie ogni persona raccoglie il ragazzo, raccoglie la persona adulta ogni fascia d'età Ferrara è una città dove si vive bene è una città dove anche il ragazzo riesce a viverci senza essere sovrastato da fitti molto alti si vive bene quindi per fare una buona attività bisogna vivere prima bene e poi pensare all'attività l'attività che svolgo la faccio diciamo veramente con tutta la mia passione con tutta diciamo la mia volontà ci metto veramente il cuore in tutto ciò che faccio perché è un progetto che ci ho lavorato a lungo e quindi ci tenevo tanto 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 a portare diciamo la tradizione grazie ovviamente all'antica pizzeria da Michele un brand che non sto qui ad elencare e ringrazio l'amministratore diciamo delegato Alessandro Condurro e Francesco De Luca che mi hanno dato ovviamente la possibilità di stare qui a Ferrara e di far mangiare diciamo la nostra pizza la pizza del popolo la pizza diciamo della tradizione la pizza che negli anni è rimasta uguale quindi significa che è un prodotto vincente è un prodotto che punta prima sulla qualità e poi diciamo sulla quantità Due notizie flash adesso la prima riguarda le conseguenze del maltempo dei giorni scorsi perché la piena del po' che ha interessato i tratti medi e vallivi del fiume è in fase di esaurimento e già alla sezione di Ponte Lago Scuro i valori sono rientrati al di sotto delle soglie di allertamento per le rimanenti sezioni da Polesella al Delta il rientro sotto le soglie di criticità è previsto entro le prossime 24 ore e si invita a mantenere comportamenti prudenti in prossimità del fiume e in navigazione ricordiamo che le attività di monitoraggio e vigilanza della piena da parte del personale di Aipo proseguiranno fino a completo esaurimento dell'evento e poi ovviamente la notizia legata al calcio di cui si è parlato in queste ultime ore SPAL quindi ufficialmente nel girone B di Lega Pro ricordiamo quali saranno dunque le squadre con cui appunto i bianco-azzurri se la vedranno per il prossimo campionato cioè Arezzo, Ascoli, Campobasso, Carpi, Gubbio Legnano, Salus, Lucchese, Milan, Futuro Perugia, Pescara, Pianese, Pineto, Pontedera, Rimini Sestri, Levante, Ternana, Torres, Virtus, Entella e Vispesaro tra i turni infrastimanali che saranno mercoledì 25 settembre mercoledì 30 ottobre e per il 2025 mercoledì 12 marzo solo una pausa quella di domenica 29 dicembre e adesso invece cambiamo argomento c'è un'azienda nel ferrarese in particolare a Vigarano Pieve che da 40 anni produce miele raccolto in diverse zone del territorio estense dal bondenese fino a Mesola una realtà che si è specializzata in un'altra prelibatezza emiliana cioè i condimenti balsamici settore quello dell'apicoltura che nonostante le tante difficoltà rimane molto dinamico grazie anche ai giovani vediamo purtroppo in questo lavoro è diventato più passione diciamo che negli ultimi anni c'è una gran crisi del miele per le importazioni estere di miele estero quindi ci siamo trovati da un punto dove l'italiano veniva bruciato tutti volevano l'italiano volevano l'italiano nel giro di questi ultimi 3-4 anni il miele italiano è quasi fermo perché appunto ci sono queste grandi esportazioni di miele a basso costo e fortunatamente in Italia c'è da dire che nell'etichetta è ben scritto la provenienza del miele dimostrate voi che è un settore questo se ci si crede si può crescere sì sì sicuramente se uno crede nel suo lavoro nel prodotto dell'apicoltura nelle api e via discorrendo è un prodotto che una volta c'era più possibilità nel produrre del miele noi adesso andiamo bene ecco una volta si faceva l'impollezione dei fruttetti i fruttetti li tolgono allora cosa abbiamo? abbiamo l'erba medica fortunatamente questa abbiamo il po' che ci dà tanto miele e la caccia poche niente è già 3-4 anni che non si fa miele di acaccia è molto più difficile lavorare è diventato difficile adesso qua siamo in una zona speriamo che abbiano prodotto del tiglio del miele di tiglio che è appena finita la fioritura adesso e noi abbiamo degli apiari da colline da Zocca, Savigno, Calderino fino ad arrivare a Mesola qui siamo vicino Bondeno e adesso vediamo il raccolto come è andato questa è la famiglia l'arnia dove tutto l'anno rimangono le api questi invece sono i melari che vengono messi sopra dove noi andiamo a prelevare il miele e il loro surplus noi lo portiamo via quindi loro nella loro arnia hanno già le scorte per l'inverno questo bel melario pieno si può dire dopo questi qua noi prenderemo via questi melari li porteremo in laboratorio per l'estrazione qui ci troviamo nel laboratorio di smielatura dove i melari che vengono portati dentro dalla campagna vengono appunto smielati ovvero abbiamo il nostro melario in questo caso che io sollevo e metto qua e abbiamo questo macchinario dove abbiamo delle lame che sono riscaldate perché in queste lame quando io tiro su il telaino viene passato in questo modo dopo questi smielatori che sono in questo caso due vengono riempiti di telaini viene messo qua dentro e viene fatto centrifugare in modo che il miele esce e poi viene filtrato e infine messo in cisterna e vi ricordo che ulteriori approfondimenti poi li troverete nelle prossime giornate su Telestense e sul nostro canale YouTube siamo addirittura ad arrivo vi ricordo Telestense.it per queste ulteriori notizie per cui grazie come sempre per averci seguito l'appuntamento rinnovato alla prossima edizione Grazie a tutti